Da qui è partito, da qui si è avuto quel punto di inizio di questa bellissima avveditura. Un lavoro di 15 mesi, ma è stato un lavoro straordinario che ci ha portato a visitare 8 territorialità che non sono altro che un'unica espressione, lo diceva prima il vicepresidente La sala austrichina Giuseppe Scotto di Luzio, traboccante di pubblico e di giovani. A Bacoli, nel parco borbonico del Fusaro, venerdì 10 maggio, ha avuto luogo la seconda presentazione del documentario edito da Media City, 79 d.C., l'ultimo comando di Plinio, da Miseno, rotta su Pompei. Nato da un'idea del giornalista Salvatore Perillo con la consulenza dello storico militare dell'esercito italiano Flavio Russo e per la regia di Ciro Gaglione, il video, sostenuto e promosso dai comuni di Pompei e Bacoli, ha ricostruito con metodo scientifico, proprio nei luoghi in cui prese l'avvio l'epica vicenda del prefetto Plinio, tutte le tappe e i momenti di quella che oggi è ritenuta la prima operazione di protezione civile della storia. A condurre i lavori della giornata l'assessore alla cultura di Bacoli, Mariano Scotto Di Vetta, alla presenza del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola e delle altre autorità civili presenti in sala. Mi ha una grandissima soddisfazione della presenza anche del vicepresidente della Regione Campania, della città di Pompei, perché puntiamo a livelli di eccellenza. Pompei è eccellenza, eccellenza è una valorizzazione culturale, Bacoli vuole esserlo. Per fare cosa? Non un clima di competizione ma appunto di sinergia. Il suo documentario va in questo senso ma va anche a meglio ancora definire che questa terra ha sempre vissuto fenomeni naturalistici di un certo tipo e dobbiamo imparare a conviverci. Un luogo con 20 siti archeologici, la città sommersa più grande al mondo, Miseni, Legame con Pompei, Plinio e quant'altro. Noi siamo veramente orgogliosi di questa giornata tra ambiente e cultura, l'obiettivo e lo sviluppo sostenibile. Una location davvero suggestiva che fa da faccio naturale sulla storica Casina Van Vitelliana e rientrata in un apposito provvedimento di riqualificazione dell'amministrazione comunale. Un luogo non vissuto pienamente dei cittadini, le famiglie avevano paura di mandare i bambini soprattutto la sera. Oggi è il luogo di accoglienza, è il luogo di ozio e di riposo ma è anche il luogo di studio, di formazione con l'arte in una sala che abbiamo trasformato nel piccolo cinema di Bacoli accanto a facciati sulla Casina Van Vitelliana, quindi veramente in un luogo paradisiaco in cui riusciamo a rigenerare il territorio attraverso una rigenerazione delle coscienze. Presente anche il comune di Pompei con l'assessore alle politiche sociali Vincenzo Mazzetti che ha ulteriormente ribadito l'importanza del patto culturale tra le due grandi realtà dell'area flegrea e della zona vesuviana. Siamo molto contenti di essere qui e di aver abbracciato insieme al sindaco della regione questo progetto, certamente questo è solo l'inizio perché poi spero e sono sicuro che ci saranno tante altre iniziative perché poi la cultura nostra deve essere portata un po' fuori dalle regioni. Un progetto culturale ed editoriale importante che è stato sostenuto subito dall'amministrazione di Pompei e che cade in un momento particolare perché il sindaco ha voluto candidare la città come capitale della cultura 2027. Era un discorso aperto già da un po' di tempo ma è chiaro che Pompei è già conosciuto in tutto il mondo però ci vuole la candidatura sulla cultura. Candidatura che io spero che vada in porto ma vada in porto non per il nome di Pompei ma per le cose che si sono messe in campo sia nel passato che futuro. Grazie Grazie